Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. La Juve vince si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, partita dominata dall'inizio alla fine. Una Sampdoria che è veramente una squadra in difficoltà, non è praticamente mai pervenuta. Oggi in panchina c'è l'allenatore Tufano, si attende ormai Giampaolo per il suo ritorno, ormai è tutto fatto. Però veramente questa Sampdoria oggi non l'ha praticamente mai vista la palla, l'ha vista pochissimo. Tra l'altro è anche riuscito a trovare i gol, incredibile, però poco poco poco. La Juve c'è da dire che oggi ha fatto una bella partita proprio dal punto di vista atletico, mi è piaciuta. Oggi era proprio in palla, ha pressato alto e soprattutto ha pressato praticamente per tutti i 90 minuti. Cosa che di solito la Juve non riesce a fare. Invece oggi l'ha praticamente fatto bene e questo ragazzi, come avevo detto in un altro video, se tu non hai qualità centrocampo dal punto di vista del palleggio e se riesci almeno a fare un pressing fatto in un certo modo, comunque vai a dar fastidio agli avversari e ti crede le possibilità in più. Il fatto è che ci vogliono anche dei giocatori per pressare, per poterlo fare. Oggi la Juve è riuscita a farla, anche perché a mio avviso comunque anche Erabio stesso ha fatto una buona partita, tutti hanno fatto una buonissima partita, però comunque consideriamo che era la Coppa Italia in campionato ho dei dubbi che si riesca a tenere un ritmo così alto nel pressing, ecco. Anche perché mi aspetto che la Sampdoria in campionato magari ci metta un po' di garra in più. Invece oggi ho visto proprio una Juve che ha dominato e una Sampdoria impotente, proprio... Cioè se non avessi visto Ciccio che ha potuto uscire dal campo, per capirci, non mi sarei nemmeno reso conto che avesse giocato, cioè ve lo dico proprio chiaramente. Quindi ecco, la Sampdoria deve sicuramente darsi una svegliata anche per non rischiare in campionato, però oggi bisogna dire comunque è stata messa in difficoltà veramente da una Juve che ha giocato un'ottima partita. Un'ottima, un'ottima partita proprio, ripeto, dal punto di vista tecnico. Poi, anche in prima partita così, si sono visti i problemi di testa che ha questa squadra. Non appena la Sampdoria ha trovato quel gol, assist di Augello, bel cross, Conti che colpisce al volo e fa un gran bel gol, la Juve ha avuto quei due minuti, tre di sbandamento, prima che poi Paolo Di Bala la richiudesse. Però ecco, quelle cose lì fanno capire comunque i problemi di una squadra, fanno capire che ancora la Juve deve crescere tanto, che la Juve ha paura, quelle cose lì le vedi, non c'è niente da fare. La Juve va in ansia, la Juve ha paura. Adesso vi faccio un esempio, prendiamo la Juve di qualche anno fa. Quando la Juve subiva un gol, si rimetteva lì e subito boom, 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 si rimetteva a martellare. Era una Juve che comunque teneva il pallone, sapeva cosa fare, lo faceva, ok? Invece adesso, quando la Juve prende un gol, va in difficoltà. E questo perché? Questa è l'assenza di fiducia della squadra. Essere consapevoli di non essere così forti, magari in maniera inconscia quando sei in campo, ovviamente, però una squadra forte difficilmente ha degli sbandamenti. Invece la Juve, appena prende gol, si vede proprio l'ansia e l'affanno a cui va incontro. Ecco, e questo non va bene. La Juve deve giocare con più tranquillità, più calma e riuscire a giocare meglio. Perché appunto poi oggi si è riuscito subito a chiudere la condibala, quindi tiri subito un sospiro di sollievo. Ma se per caso non l'avessi chiusa, allora lì magari subentrava veramente ancora più ansia ad ogni cross buttato lì dalla Samp. E questo non va bene. Non va bene, specialmente in una partita in cui hai dominato dall'inizio alla fine. Cioè, ripeto, se una partita così la giochi in campionato, non devi assolutamente permetterti di rischiare che la squadra avversaria la possa riaprire. Non deve assolutamente succedere. Assolutamente. Fatta io la critica che voglio fare oggi alla Juve, se invece mi è piaciuto dal punto di vista atletico, non mi è piaciuto il fatto che, come sempre, la Juventus abbia creato tanto per poi, alla fine, rischiare quasi, con un tiro in porta, di farsi riaprire la partita. Ecco, questa è una cosa che non deve assolutamente succedere, è una cosa su cui la Juve deve continuare a lavorare, perché non si possono sprecare certe occasioni per superficialità. Perché poi, ragazzi, alla fine è superficialità, perché sbagliare una scelta negli ultimi 20 metri o sbagliare un tiro è superficialità. È superficialità. Quindi bisogna essere concentrati sul pezzo per tutti i 90 minuti. C'è poco da dire. Ad ogni modo, la Juve oggi ha segnato quattro gol, il che è ottimo. Il primo lo segna a Juan Cuadrado con un gol su punizione. Direi che dopo l'era Ronaldo alla Juventus, è il primo gol su punizione segnato da un altro giocatore bianco-nero, quindi Juan Cuadrado. Poi raddoppia, attenzione, Daniele Rugani di testa. Lui ha un po' il vizio di segnare di testa. Mi ricordo qualche gol di Rugani di testa. Quindi oggi si conferma un buon saltatore su un bel assist di Arthur. Arthur oggi, devo dire, che mi è piaciuto. Ma, ragazzi, ripeto, mi è piaciuta più o meno praticamente tutta la Juve. Quindi molto bene così. Poi, appunto, arriva il gol di Conti al 63esimo. ed è un gol che non deve assolutamente esistere. Cioè, un bel gol, ragazzi, ripeto. Cross di Augello. Vuole di Conti, però non deve esistere. Un gol così non lo devi prendere assolutamente. Perini incolpevole. La palla sbatte sul pallone ed entra. Ragazzi, non deve esistere. Un'altra volta, un gol così, non bisogna prenderlo. Poi, dopo quei due o tre minuti di panico, arriva il gol di Paolo Di Bala. E qui, bravissimo Locatelli. Falcone, il portiere della Samp, sbaglia il passaggio. Sbaglia a giocare la palla. Arriva Locatelli, che sdradica il pallone al suo avversario. E la palla arriva a Di Bala, che solo davanti al portiere lo fulmina facendo il gol del 3-1. E poi vorrei fare i complimenti a Paolo Di Bala per aver lasciato tirare il rigore a Alvaro Morata. Era una cosa che mi ha sempre fatto in bestialire di Cristiano Ronaldo. Quando lui magari aveva già fatto 1-2 gol, che non lasciasse mai, e dico mai, tirare un rigore a un compagno. Era una roba che mi ha sempre fatto in bestialire, perché io sono cresciuto guardando gente come Del Piero, per esempio della mia squadra, oppure anche come Messi, da amante del Barcellona. È una roba che mi ha sempre fatto rabbia. Hai già fatto 1-2 gol, lascialo al tuo compagno, che magari è Messi che non segnava. Mi ricordo un Morata, che era un bel po' di partite che non segnava, e Cristiano mai una volta gli ha lasciato il pallone. E dico a lui, magari per non dire, allo stesso Di Bala, magari dopo tutti i problemi che aveva avuto. Quello, a mio avviso, è dimostrazione comunque di essere un leader. Io mi ricordo Alessandro Del Piero, all'ultima giornata di campionato, poteva vincere la classifica dei capocannonieri, a Genova contro la Sampdoria, aveva già segnato, lasciò a rigore a David Reseguet, che segnò a rigore, e in quel momento erano appaiati nella classifica dei marcatori. Poi ci fu un altro rigore, allora a quel punto lo tirò Alessandro Del Piero. Però il gesto di lasciarlo a un compagno, specialmente mentre lui si stava lottando il titolo del capocannoniero, io vi chiedo uno come Cristiano Ronaldo l'avrebbe mai fatto? No. Quindi, chapeau a Paolo Di Bala, mi è piaciuto tantissimo questa cosa e quindi la voglio sottolineare. A me i giocatori altruisti fanno impazzire. Io sono sempre stato contro un certo tipo di giocatore egoista in questa maniera. Mi piacciono i giocatori altruisti, mi piacciono i veri leader, perché a mio avviso questi sono i veri leader. Magari non parlano tanto, magari non si fanno sentire in certe occasioni, ma si fanno sentire quando sicuramente serve. Quindi bravo Paolo. Poi vorrei fare una menzione per Ache, questo giovane ragazzo. Mi è piaciuto tanto come è entrato. È un giocatore da tenere d'occhio, ragazzi. È un giocatore da tenere d'occhio. Lui viene dal Marsiglia, è sicuramente un giocatore da tenere d'occhio come lo è senza dubbio, senza dubbio, ragazzi su Le. Io l'ho visto giocare più volte su Le, come vi ho detto anche in altri video, è un crack. Tenetelo d'occhio perché quel ragazzo lì può fare veramente i buchi tra qualche anno. Quindi teniamolo assolutamente d'occhio, non facciamo cavolate in società, teniamolo lì il più possibile. Le è stato rinnovato il contratto e tutto, teniamolo lì. Unica pecca della partita appunto, a mio avviso, avrei voluto vedere giocare un po' di più Caio George e avrei voluto vedere in campo su Le. Però per il resto comunque hanno fatto tutti un'ottima partita. Mi è piaciuto anche come è entrato Paolo. Mi è piaciuto quando ha iniziato il pubblico, quindi quando ha chiesto al pubblico il supporto. Quindi mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ragazzi è stata una bella partita, c'è poco da dire, la Juve ha giocato bene. Poi quando segna Daniele Rugani, ragazzi, vuol dire che è la giornata giusta e bisogna essere bravi a sfruttarla. Quindi bene così, andiamo ai quarti, incontreremo una tra Cagliari e Sassuolo, vedremo chi beccheremo. Bisogna utilizzare questa partita per cercare di crescere anche in campionato. Bisogna, bisogna ricreare la mentalità giusta, ragazzi. Lo ripeto ancora una volta, nessuna grande squadra dopo che prende un gol ha paura. Una grande squadra, sa di essere una grande squadra e continua a giocare. Da questo punto qui già si vede quando una squadra è una squadra, quando è una grande squadra e quando non lo è. Quindi noi ancora non siamo una squadra, perché ancora non lo siamo, però stiamo cercando di diventarlo. Si vedono i miglioramenti senza dubbio, perché abbiamo visto si vedono senza dubbio, perché si vedono i miglioramenti fatti nella fase difensiva. Abbiamo problemi in fase offensiva? Verissimo. Ma l'abbiamo anche per via delle assenze, per via dei problemi che abbiamo proprio tra il centrocampo e l'attacco. Ragazzi, il centrocampo, mettiamocelo in testa, è il reparto più importante di tutti. Quando hai il centrocampo, tu hai il filtro per la difesa e crei le azioni per l'attacco. Quando ti manca il centrocampo non hai nessuna delle due cose. Quindi è molto, molto, molto difficile. Puoi magari metterci una pezza su una cosa, ma vai a penalizzare l'altra. E infatti la Juve riesce, diciamo, a sopperire, ad aiutare di più in fase difensiva che in quella offensiva. Non è un caso. Mi faccio un altro esempio. L'Europei con Antonio Conte quando l'Italia affrontò la Spagna. La Spagna quel giorno al centrocampo era un buco. C'era solo Busquets. I due difensori che erano Piquet e Sergio Ramos, di certo non i primi due arrivati, ecco, diciamo così. Probabilmente due tra i difensori centrali più forti degli ultimi 30-40 anni della Spagna. non sapevano, non sapevano da che parte girarsi perché era un assedio. Perché? Perché mancava il filtro al centrocampo. Molto semplice. Quindi ragazzi, continuiamo così. Vediamo se dal mercato arriva qualcosa. Vediamo se la Juve riesce a chiudere per Zaccaria. E soprattutto vediamo se la Juve riesce a riportarsi a Casarovella. Ragazzi, se la Juve riesce a riportarsi a Casarovella già a gennaio per me è un colpaccio. Perché quel ragazzo lì innanzitutto batte ripiazzati e non è roba da poco. E poi è un giocatore giovane, di personalità e che dà equilibrio al centrocampo. Sarei molto, molto, molto curioso di vederlo giocare alla Juventus. Molto curioso. Quindi vediamo cosa verrà fuori. Vediamo se ci saranno sviluppi. Io sono sempre qui per commentarli insieme a voi. Vi mando un forte abbraccio. Forza Juventus. E... Ragazzi, 4-1. Dai! Vediamo cosa succederà poi della partita contro il Milan. Ci aggiorniamo molto presto. Iscrivetevi al canale. E attivate le notifiche. E... Difondete il verbo, ragazzi. Difondete il verbo. Un abbraccio a tutti. Ciao!